Musica Bravissima, Gisina! Tollire premio, esatto, anche questo fa parte della petterchi, cioè anche preparare per l'esercizio, quindi i pazienti svolgono anche il compito di preparazione dell'attività che verrà fatta dopo con il cane, preparano loro il premietto che poi Ambrosio prenderà. Gli esatteli altri 4? Eh sì. Lui ci darà quanta roba che c'è lì per Ambrosio, ecco. Seduto! Adesso digli zampa, mettili la mano e digli zampa! Zampa! Bravissima! Ottimo! Perfetto! Seduto! Seduto! Bravissima! Bravissima, bravissima! Perfetto! 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 Molto bene! Daglielo adesso, daglielo! No! Metti la mano così, apri la mano! Brava! Bravissima! Perfetto! Molto bene! Perfetto! 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 Grazie! Perfetto! Bravissima! Tranquilla, tranquilla, Duiglia! Sì, sì! pensi a me andrei a fare una gara brava, brava Duiglia bravissima brava, brava adesso guarda facciamo adesso io ti prendo la spazzola ti prendo la tua mano sì, eh, Ambrogio vieni, vieni Ambrogio così, ok brava, adesso lui ti dà la zampa e facciamo così Ambrogio giù a terra lo facciamo sdraiare eccolo qua, bravissima bravissima brava Duiglia, brava complimenti eh molto bene bello Ambrogio, sì Ambrogio il segugio, ti ricordi Duiglia? sì Ambrogio il segugio il segugio giusto, questo è Ambrogio il segugio italiano che, ricordiamoci un po' chi è Ambrogio è questo cagnolino molto tenero che teoricamente dovrebbe essere un caglio da lepre e in questo periodo lui dovrebbe essere in giro a prendere lepre invece lui non trova le lepre ma trova il divano però poi dopo esce e viene a fare queste belle cose con voi con dei bambini eccetera e quindi diciamo che si ripaga un pochino tutto quello che fa sul divano allora guarda eh io prendo e io lo metto davanti al muso e Ambrogio segue due volte qui passiamo in mezzo alla strettoia bravo Ambrogio e Santino bravissimo seduto premio Ambrogio Santino ma prendi strettoia seduto premio strettoia strettoia sei pronto per il saltino il musina? pronto via saltino bravissima seduto taglia il premio brava Luigina vai bravissima saltino strettoia perfetto seduto premio e ecco allora adesso facciamo lo slalom mettiti qui così vedi bene Luigina lo prima volta lo fa il Paolo poi la seconda fa il segno ecco lo allora lo slalom uno due tre saltino seduto premio capito? questo è più difficile brava brava pronto a cordone indietro saldino uno due tre perfetto seduto premio grazie grazie ragazzi grazie Grazie a tutti.